E c'è un ultimo pezzettino che possiamo affrontare, è uscita una ricerca di LinkedIn sui lavori in crescita, le 15 professioni in ascesa in Italia. Il mondo del lavoro sta cambiando, il 61% dei professionisti italiani in cerca di una nuova occupazione nel 2024, mi sembra una percentuale molto alta però ok. Professionisti però che si intende in genere? No, intendono persone che lavorano, quasi sicuramente. Il 61% è in cerca, già nel primo settimana, non so di quanto è quest'articolo, sono quelli che nel corso del 2024 cercheranno, ci sta, ma il 17 gennaio c'è già il 61% dei professionisti che cerca occupazione? Avranno fatto un sondaggio, un survey su 7 persone. Sì, tipo 6 aperto a nuove opportunità nel 2024, una cosa di questo tipo. 6, 4, hanno detto sì, 3, hanno detto no, fa 60%, ok. No, vabbè dai, si tratta di LinkedIn un po' di dati ce l'hanno, ecco. Ah no, pure hanno visto sulla loro piattaforma quanti sono open to work, quello potrebbe essere un'altra cosa effettivamente. Comunque hanno studiato questa classifica delle 15 occupazioni in più rapida ascesa negli ultimi 5 anni. Ok, vediamo esattamente se lo definiscono meglio. Ah, maggiori dettagli sulla nostra metodologia sono disponibili alla fine di questo articolo. Un'occhiata gliela diamo, così verrà, per amore dei numeri, però dopo. Sì, 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 sì. Ok, qua dice, abbiamo elencato quelle più comuni per ogni occupazione in classifica. Doverai anche collegamento e corsi LinkedIn. Allora, numero 1, addetto allo sviluppo commerciale. Che cazzo è? Cercano potenziali nuovi clienti, proponendo prodotti idonei alle loro esigenze. Quindi questi qua sono fondamentalmente SDR, Sales Development Representatives, mi sembra di capire. Era principale dove si assumono Milano, Roma, Torino, 53% donne, 47% uomini, due anni di esperienza. Il commerciale, fondamentalmente, sì, come dice Marcus Cronin. Ok. Vabbè, non c'è mai fine alla parte di vendita. Eccolo qui, ingegnere dell'intelligenza artificiale, competenze più diffuse, computer vision, machine learning, elaborazione del linguaggio naturale. Questo sarà una traduzione strana dall'inglese. Natural language. E, attenzione, qui lo split è già diverso. Sopra com'era? Sopra com'era? Ce l'avevamo? Era leggermente più donne. 53% donne e 47% uomini. Ok. Mentre invece, attuale distribuzione per genere, 25 donne e 75 uomini. Lo sai che pensavo quasi peggio? Cioè, è comunque... Sì. È comunque enorme come differenza. Qui parliamo di quelli che cercano lavoro, non di quelli impiegati nel settore, no? No, qui dice distribuzione attuale, credo che intenda attuali... Attuale distribuzione del genere, non solo tra quelli che cercano lavoro. Pensavo quasi peggio. È comunque altissimo come differenza. Ma è sicuramente peggio, avranno dei cap pubblicabili, non lo so. Vediamo se c'è qualche altra professione con uno split diverso. E poi, la cosa che fa ridere, anni media di esperienza 1.7, quindi meno esperienza per essere assunti in questo ruolo rispetto a essere commerciale, dove ok, sicuramente un commerciale bravo, con esperienza, fa un sacco di soldi in più. Trova lui che sono tre anni in questo settore, che è molto fresco, dai. È una questione che esiste da poco. E l'altra cosa è che la possibilità di lavorare da remoto è più bassa rispetto a quella per i commerciali, dove è 40%. Secondo me qui è influenzato dal fatto che molti commerciali magari non sono neanche a contratto, sono tipo freelance, che vogliono assumere a commissione, e quindi non li fanno neanche venire in ufficio. Essere un commerciale è un buon lavoro, change my mind. Simone. Ma dipende da quello che vendi, secondo me dipende tanto dall'azienda. Però sì, in teoria sì, se sei bravo, se sei un'azienda interessante, se hai un bel prodotto. Però se è uno di quei prodotti schifosi, sono solo un sacco di porte in faccia e chiamate a freddo, insomma, è tosto. Penso che sei uno dei pochi lavori che non potrei mai fare. Sì, ma chi è che c'ha un anno in mezzo? Su CharGPT neanche esisteva 1,7 anni fa. Ma sì, però, cioè ragazzi, comunque, ingegnere dell'intelligenza artificiale non vuol dire che usi CharGPT, vuol dire che conosci... Tecnicamente la mia laurea magistrale, diciamo, la mia laurea vecchio ordinamento era su intelligenza artificiale e c'è più di 20 anni la mia laurea, per cui c'era già. Next, analista SOC. Che vuol dire in italiano? Sicurezza informatica. Ah, sicurezza informatica, quindi sarà una short... SOC, Cyber Security, sarà Security of Computers. Ah, Security Operation Center. Quindi sarà il responsabile del centro di sicurezza delle operazioni. Guarda qua, guarda la distribuzione del progetto, questo non ci crede neanche, questo non è proprio possibile. Cioè qua, chiunque, sento, qui stiamo forse a 2,5, quindi si vede che per essere diplomatici hanno messo un cap a 25,75. Effettivamente questa la vedo difficile. Questa non è proprio possibile, quindi questa qui è una cazzarata per evitare... Poi, Sustainability Specialist. Sustainability Specialist. Ok. Che cazzo fa un Sustainability Specialist? Supervision, implementano strategie volte al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità delle organizzazioni. Ah, no, diciamo, sicuramente è un lavoro in crescita e ci sta che... Ah, dipende se questa lista è fatta su percentuali o su numeri interi. Perché se mi parlo di percentuali... Ci sono tre ruoli, di cui due donne e un uomo, ci sono tre persone in Italia che fanno sto lavoro. E gli piace, abbiamo scoperto che gli piace. No, ma allora, è un lavoro... Cioè, io conosco qualcuno che ha fatto questo tipo di lavoro. Effettivamente hai bisogno di qualcuno che si occupa di fare la reportistica per ISDGs. Allora, OVATTV ci dice che nell'azienda in cui lavoro, le mie colleghe software in G, vengono di più perché sono donne, già sei... No, è perché tu non sai scrivere. Non è quello lì. Quindi non facciamo... Ci può stare un'azienda con bezzetta, amore. Del grammatismo. Ah, si è corretto, si è corretto. Vabbè. È un lavoro, sì, ma non full-time. Beh, voglio dire perché non full-time. Dipende. Però appunto, penso che i numeri assoluti siano molto bassi queste persone, perché solo una grande azienda si mette a assumere uno che fa sta roba full-time. Altrimenti ti vende un'azienda di consulenza e te lo fa al posto tuo. Però, vabbè, ci sta come ruolo. Ok. Qui dice, in onda di dire sostenibile, io punto a farci stare in quell'ambito. Good luck. Sì, comunque fa ridere che in questo ruolo ci sia il 5% di possibilità di lavorare da remoto. Perché, in teoria, lavorare da casa è abbastanza sostenibile. È sostenibile. Quindi, sì, questo veramente forse saranno solamente aziende enormi che assumono persone che fanno questo ruolo. Dobbiamo essere almeno 20 posti di lavoro ci devono stare, se no il 5% non lo fai. È 4.9, per cui in teoria è più complicato. Cloud engineer. Cloud engineer. Oh, andiamo sulla ciccia. Andiamo sulla ciccia. Uh, no, 19 donne. Come è possibile che ci siano meno donne in cloud engineering che in cyber security? Non ci credo. Se vedete che il filtro funzionava solo sopra, è fisicamente impossibile come l'abbiamo visto. Ok. Mi sembra strano che appunto ce ne siano di più in security, però ok. Qui 28%, comunque la percentuale di lavori da remoto in Italia è bassissima. Cioè, questa cosa è veramente triste. Perché non c'è il contadino? Perché siamo su LinkedIn, il contadino... Non assume su LinkedIn, però magari probabilmente starebbe on top. Data engineer. Data engineer. Anche qua, 30% donne, ok, ci può stare. Ci sta. Responsabile acquisti. 1.1% possibilità di lavora da remoto. 1.1%. Se devi comprare la roba, se devi fare il procurement. Sì, ok. Cioè, questo probabilmente sarà il segretario che si compra, che chiama per comprare lo scotch. Cioè, perché se no avete 1% possibilità di lavorare da remoto, mi sembra... Cyber security engineer, quindi questo sarà una variante rispetto a quello che abbiamo visto sopra. Ma dai che è 24-76, ma non è vero, non è vero, ragazzi, non è vero, è bugia. Quattro anni di esperienza. E l'ambiente... Cioè, già software engineering stiamo a 90-10, ma cyber security è proprio 99-1, te lo può dire qualun, chiunque, chiunque. Purtroppo, perché... Ma lei sta cambiando, eh? Ma lei sta cambiando. Però, cioè, chiunque conosco che sta in quel settore, dice proprio che l'ambiente che già all'interno di software engineering, che è abbastanza... c'è molta prevalenza maschile, cyber security è proprio una roba... Oh, ok. Eh sì, noi abbiamo questo testosterone che vogliamo spaccare la roba, senza senso. Non c'è alcun giudizio di merito, è solo una questione veramente statistica, è così, è così. Sì, 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 no, ma è lo stesso feedback che ho sentito anch'io. Cioè, ma sì, sono tanti, ma anche in robotics, ma già robotics forse un po' più affascina, ma a quanto pare cyber security è una roba allucinante. Consulente cloud, vabbè, questo, diciamo, mi sembra... Fiscalista, attenzione, il fiscalista. Bello. Beh, questa non me l'aspettavo, devo dire che... Ci sta, ci sta, ci può stare, è un lavoro che è sempre richiesto. Ecco, questo è un lavoro che non so, sicuramente con l'AI puoi automatizzare un sacco di roba, non so fino a che punto può essere completamente cancellato, perché sono cose sempre molto custom all'azienda. Sì, è vero, però le regole sono, in teoria, comuni, per cui, in teoria, un AI potrebbe un domani fornirti una review finanziaria, perché no? Sì, 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 no, certo, sicuramente, quello, sì. Secondo me questo è un lavoro che potrebbe vedere una bella rivoluzione nel mondo dell'AI, e sta nelle professioni più ambite, più piacevoli, perché secondo me hai un lavoro che non è stressantissimo. Pugge, queste sono quelle più richieste, non quelle più ambite. Ah, più richieste, scusate, uh, siamo partiti dal contrario, più richieste? Ok, pensavo fossero quelle più ambite, quelle più open to work. No, 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 dovrebbero essere quelle con più richieste, poi vediamo dopo i dati, però dovrebbero essere quelle con più richieste. Ok. Quindi fiscalista. Ok. Talent acquisition specialist. Recruiter. Recruiter. Good luck. Il fatto che il recruiter sia 1.6%, possibilità di lavorare da remoto. C'è molto HR, ma ci sta che devi stare lì. Sì, però questo è il venditore dell'HR fondamentalmente, talent acquisition, quindi. Performance engineer, ok. Ingegnere di pista. Ingegnere di pista, what the fuck? Non so perché. Sì, questa sarà qualche traduzione strana, secondo me. Sì. Solutions consultant. Linguaggio a quadrato. Consulenza vendita di soluzioni, che puoi dire. Esatto, però non sapevo dove mettere Accenture e Reply. Eh, esatto, sì, questo doveva essere tutto qui dentro. Medical science liaison. 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 Che cazzo fa? Facilitare lo scambio di informazioni scientifiche dalla comunità medica alla società farmaceutica. Eh, fatelo ragazzi, fatelo. Ah, ma non è che questi sono quelli che vendono i prodotti? Sì. Ci ho pensato mentre finito di dire fatelo, perché in realtà piacerebbe che qualcuno che porta digitalizzazione nel sistema medico e farmaceutico, ma in realtà questi sono quelli che vendono sugli intermediari. I promotori, anziché promotori finanziari, i promotori farmaceutici. Sviluppatore back-end. Che tristezza. Quindicesimo posto sviluppatore back-end, che brutta fine, che brutta fine l'informatica, ragazzi. Vediamo, metodologia di classificazione. Cioè i venditori stanno in testa, soprattutto il back-end, che brutta fine. Ah, allora qui dice, gli utenti che hanno iniziato a ricoprire dal 1 gennaio 2019 al 31 luglio 2023 per calcolare il tasso di crescita di ogni ruolo. Quindi queste sono le persone, i ruoli che sono stati più assunti, neanche più, cioè più assunti negli ultimi 4 anni e mezzo, insomma. Il tasso di crescita, neanche da. Una crescita notevole tra tutti i nostri utenti, sono aumentati in modo considerevole entro il 2023. Sono stati esclusi gli stage, il volontariato, i ruoli temporanei e quelli per studenti. Quindi è il tasso di crescita, non so, occupazione in termini assolute. Eh no, no, è il tasso di crescita. Infatti secondo me altrimenti il sustainability engineer non sarebbe... Sì, sì, infatti, non ci credo che il back-end engineer, so meno che il sustainability engineer, dai, sarebbe un mondo brutto in cui vivere. Ecco, cioè il commerciale è cresciuto così. Ah, diciamo, ecco, qua c'è un altro bias, secondo me, diciamo, di questa ricerca che è... C'era pre-covid, post-covid... No, è LinkedIn stesso poi. Soprattutto in Italia. Tutti gli informatici c'erano su LinkedIn nel 19, però pochi agricoltori lo usavano. Pochi cercavano il venditore su LinkedIn magari. Quindi quello potrebbe essere un'altra chiave di lettura per i dati italiani. Però dice poi la cosa da remoto da ottobre 2022 a ottobre 2023 è contrassegnata come a distanza. Ok. Quindi cosa ti dice questo quadro dell'Italia? In realtà è abbastanza bilanciato, no? Commerciale sarà la stessa persona tre volte in tre anni perché ha più turnover. Sì, è abbastanza. Ok. Cosa ti dice questa lista? In realtà non tantissimo. Mi aspettavo qualcosa di più... Faccio difficoltà a giudicare i dati perché se parliamo solo di crescita relativa, senza numeri assoluti. A me piacciono i numeri assoluti, mi piacciono. Ma scopriamo che il software engineer è così e questi sono minuscoli ma sono triplicati, chi se ne frega. Sì, a parte Paolo. È poco interessante. Sì, diciamo quello che mi dice è che abbiamo una percentuale di lavoro da remoto ridicola. È irrilevante. Questo sì, che fa strano. Il Covid sta sparendo anche in tutto, anche su queste cose qua. Sì, mi sembra... Chissà come erano i dati prima del Covid. Magari prima del Covid erano tutti al 0%, chi lavorava da remoto? Prima del Covid era raro trovare aziende che assumevano full time da remoto, effettivamente. Erano veramente poche. Dovevi andartela a cercare con il lanternino, veramente. Ci dice che servono più ingegneri, ci dice. Ci dice che servono più ingegneri. Beh sì, quello diciamo sempre. Quello, la ricerca... Beh, effettivamente comunque 5 su 15 sono ruoli sviluppatore, forse anche di più. 6 su 15. Quindi quello ormai è chiaro. In crescita dal 19, se forse facevano altre, non so, c'era i picking dei punti iniziali e finali, va bene, non lo so. Mi sembrava poco interessante, poco quantitativa, onestamente. Non so, né le posizioni relative, né le differenze di crescita effettiva e né i dati assoluti. Così, boh.